Per il resto, come ho detto, io ricordo bene quella conversazione e dirò domani in Parlamento tutto ciò che ho da riferire. Sono molto serena, anche se molto stanca, e ho grandissima fiducia nella magistratura. Grazie. Il segretario dell'Aula, perché io faccio fede a quello che dice il capogruppo che rappresenta il gruppo di scelta civica, e il gruppo di scelta civica ha detto cose differenti. Credo che quella della signora onorevole Giannini, mi pare, sia una posizione di carattere personale, come ha chiarito il leader del partito, e per me conta il partito per interno non una posizione personale.